Pelatine e pelatine, bentornati, bentornati fra di noi e oggi ci guarderemo il trailer dell'annuncio di Crash Bandicoot. Here we go! It's About 10, una nuova avventura, dico, bloccheranno il video per questa musica perché figurati c'è, mamma mia, mamma mia, devi parlare il più possibile così magari, che cazzo è, minchia, nuovi mondi, figata, ecco hanno fatto le cose in grande mi sa, sì, 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 hanno fatto le cose in grandissima, invece che un N potevo metterci una Z di Zeb, vabbè, fico, muove follie, boh, spettacolo, gioco musicale anche, fico, fico, dai, 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 con l'armatura, spettacolo, Crash, è tornato, tico, dai, 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 però, 2 ottobre, quante volte l'hai già battuto questo buffone? Tre. Ah sì, solo tre? Strano, avrei detto di più. Ah, pensa a te, ah, perché in realtà, ecco, perché in realtà sono usciti degli altri giochi su PS2, però non riterranno a conta a quanto pare, perché questo praticamente sarebbe il quarto capitolo. Va bene ragazzi, ci si becca, alla prossima.